Ma della borsa noi che ne sappiamo, della finanza che ne sappiamo noi, per noi la vita si viga la giornata, che disoccupata se ne va. È il momento di fermarci! Non ancora! Che aspettiamo? Possiamo raggiungere i 60 ballari all'azione! Abbiamo valutato abbastanza! Possiamo ottenere di più! È troppo miricoloso! Fidati di me! Bravi, miseri, semplici, dollari versati in banca! E poi vestiti nel rialzo delle azioni del rave e del mercato sui città! tryghi! Noi sellar un'anni! Noi sellar un'anni! Grazie a tutti